Siamo qui con Nicola Tribuzio, capitano dei Black Swans, partiamo da 5 minuti fa, ultimo minuto, ultima azione, cosa è successo? È successo che io ci ho creduto, mi sono detto questa è la palla buona, festeggio 18 anni così, è la cosa più bella di tutto, anche perché è stata una partita sofferta, fanno piacere i tre punti e il gol all'ultimo secondo è sempre un grande piacere. Ricordiamo che la partita è finita 1-0 per voi, partita insomma con il piede giusto, tre punti in classifica, un tuo gol, un bel compleanno. Bel compleanno sì. E approfittiamo per farti gli auguri naturalmente, obiettivi personali e stagionali? Obiettivi personali è giocare il meglio possibile, sempre segnare almeno un altro gol, così faccio il doppio dell'anno scorso. La squadra puntiamo in alto perché veramente quest'anno abbiamo una cosa competitiva.